Questo è il più importante fra gli appuntamenti del public program dedicato a questa bellissima mostra in cui ci troviamo ed è per questo che abbiamo scelto di tenere questo incontro proprio qui sotto questo neo meraviglioso che è la prima delle opere di questa mostra. Un incontro speciale perché abbiamo due dei tre curatori, Barbara Feriani e Marina Pugliese, abbiamo il professor Flavio Fergonzi che insegna storia dell'arte alla Scuola Normale Superiore di Pisa, abbiamo il dottor Laurini che rappresenta come vicepresidente la fondazione Lucio Fontana con cui è stata fatta veramente in strettissima collaborazione questa mostra, Marina Pugliese come tutti sapete è l'ex direttrice del Polo Museale Museo del Novecento, GAM e MUDEC e adesso insegna al College of Arts di San Francisco, mentre Barbara Feriani restauratrice, docente alla Scuola di Restauro della Venaria Reale e direttrice del Centro di Restauro del Design Museum della Triennale. Questa sera appunto in questa conversazione che sarà moderata da Flavio Fergonzi che per inciso è anche il docente diciamo all'origine di tutto questo lavoro di ricerca durato anni di Marina Pugliese, il docente che ha seguito Marina Pugliese durante la sua tesi di dottorato e al quale direi lascio la parola per ripercorrere insieme a noi la storia di questa mostra, le fasi che hanno portato alla ricerca, l'idea, la progettazione e infine alla realizzazione di questa che per noi di Pirellian Garbicocca è veramente una mostra straordinaria curata, lo ricordo, da Marina Pugliese, da Barbara Feriani e dal nostro direttore artistico Vicente Todolì che questa sera non è con noi ma che ha avuto un ruolo assolutamente determinante nella realizzazione di questo progetto. Grazie mille, passo la parola al professor Fergonzi. Allora, buonasera. Io parlerò poco, vorrei che parlassero soprattutto le due curatrici di questa mostra. Perché è una mostra in cui l'impronta proprio di volontà, di volontà scientifica e di domande e di risposte dei curatori è determinante, fondamentale. Non era una mostra semplice, una mostra molto innovativa, con delle problematiche aperte, con delle problematiche identitarie, statutarie, conservative delle opere e di incidenza sullo stato degli studi dell'arte d'avanguardia del Novecento molto importanti, molto grandi, che lasceranno sicuramente il segno. L'avviso che volevo dare a chi è qui e che immagino che abbia visto la mostra insomma è che chi vive questa esperienza di entrare negli ambienti, fruire negli ambienti come un'esperienza festosa, una specie di festa degli occhi e quindi basta vedere l'impatto di questo neon bianco della triennale del 51 sul cielo finalmente azzurro. L'abbiamo visto contro tutti i colori possibili e immaginabili, non con quello originale del palazzo dell'arte. La vive come una festa degli occhi e in qualche modo anche degli altri sensi. Il tatto, si toccano le pareti che di volta in volta sono di feltro o di legno dipinto. Il senso dell'equilibrio, che è un senso molto importante perché mette in gioco proprio la centralità percettiva dell'io. persino l'olfatto di certe stoffe un po' desuete, un po' a cui non siamo abituati ormai ad entrare in relazione. E fruisce, chi visita questa mostra, questa dinamica particolarissima che è quella da un lato dell'isolamento, dell'altro tempo. Si entra in questi ambienti come in un'altrove, in un altro tempo, in una rimessa in gioco delle proprie facoltà percettive, ma allo stesso tempo il grande contenitore di Anger Bicocca consente di riportarla ad un oggi che diventa indubbiamente perturbante. Gli ambienti si vedono di fuori, con la loro struttura, con la loro grandezza, con le loro differenze di scala, con le loro problematiche di vivere all'interno di un altro enorme ambiente, la lezione delle mostre del minimalismo americano degli anni Sessanta, inevitabilmente ci ha tutti segnati. Ecco, dicevo, chi vive questa mostra in questo modo, che è il modo giusto con il quale bisogna viverla, immaginarsi che è esistito, cioè verificare che è esistito un artista argentino, ma soprattutto milanese, che è stato il primo a ricredere nel Total Kunstwerk, nell'opera d'arte totale, forse non sa da quale presupposto questa mostra è nata. È nata da un antico arnese, dal dottorato di ricerca, da una tesi di dottorato di ricerca, da una caparbia dottoranda che voleva mettere alla prova le sue esperienze di funzionaria museale di fronte alle problematiche, della storia dell'arte, rimettendosi in gioco quando ormai era prima funzionaria del Comune di Milano e poi direttrice del Museo del Novecento, con delle domande che erano come si studiano gli ambienti, che fare quando gli ambienti non ci sono più o sono stoccati all'interno di magazzini dei musei, come riproporli, come restaurarli, come far rivivere o non far rivivere questa idea di qui e ora del momento in cui l'ambiente era stato creato per un certo tipo di pubblico, che aveva anche dimensioni probabilmente fisiche un po' diverse dalle nostre, certi ambienti che ci obbligano me, insomma che sono alto, ma anche quelli della mia generazione a piegare la testa per entrare, a stare attento di non dare testate, probabilmente era diverso negli anni 50 e negli anni 60. Nasce quindi da queste domande e da un'esigenza nuova, quella di focalizzazione storica, l'aggettivo storico è un aggettivo che bisognerà spendere per questa mostra, storico nel senso di calare gli oggetti, i pensieri, i progetti, la fruizione del tempo nella storia. Che si fa quando la filologia documentaria, fatta di fotografie d'epoca, di disegni, di progetti, di materiali, di esecuzioni, di recensioni, di trasmissibilità degli ambienti, di riproponibilità degli ambienti da un luogo all'altro, che si fa quando la filologia documentaria interferisce così pesantemente, contro l'irripetibilità di questi luoghi e di queste condizioni di fruizione, irripetibilità che è emotiva, che è fattuale, che addirittura è performativa. In alcuni di questi ambienti erano previste delle danze, delle performance che li qualificavano, li rendevano, come dire, profondamente calati nel tempo. Questo era il problema da risolvere, cioè non era solo un problema di definire statutariamente di che cosa stiamo parlando. Non sono decorazioni architettoniche, non sono unità di pittura, scultura e architettura. Sono una cosa che si chiama ambiente, è una parola complicata, una parola che viene addirittura da una sottotraccia tradizione di tipo futurista. Il famoso errore nella traduzione boccioniana di atmosfera ambiant, Soffici intendeva per atmosfera ambiant, l'atmosfera che stava intorno alle sculture di Medardo Rosso, la scultura che interferiva con le superfici. e boccioni la traduce come atmosfera trattino ambiente. Diventa qualcosa per cui il fuori, il fuori inteso come l'ambiente in cui si trova la scultura, interferisce con il dentro della scultura e riscoprire nella fine degli anni 40 quell'unico momento di vera avanguardia italiana è stato probabilmente un declic fondamentale per Fontana. E d'altro canto l'altra parola cruciale che è quella dell'aggettivo spaziale. L'aggettivo più, come dire, chiaro per certi versi, più ambiguo dal punto di vista semantico del significato che possa esistere. Spaziale vuol dire dello spazio, ma quale spazio? Lo spazio cosmico, lo spazio interstellare, lo spazio che noi percepiamo ancora oggi come spazio, o il concetto di spazio che sta alla base di fatto della creazione dei lemmi della storia dell'arte, lo spazio figurativo, che è una cosa ben diversa rispetto a questo concetto di spazio a cui siamo abituati. Gli ambienti sono uno dei pochi luoghi in cui è possibile percepire questa unità, questo cortocircuito tra un significato dello spazio e l'altro significato dello spazio. E sotto traccia corrono due temi importantissimi. uno è quello del trionfo di questi ambienti e di questa ideologia che ha portato all'ambiente nell'arte degli arttardi anni 60 e 70. Fontana orgogliosamente dice di essere stato il primo in Italia e nel mondo ad aver creato questa ideologia della raffigurazione artistica in cui era l'ambiente e non gli oggetti che stanno all'interno dell'ambiente a determinare la datità dell'esperienza artistica. Il secondo problema è quello del disorientamento del percipiente. Esiste un'unità. La storia d'arte dà per scontato, la produzione artistica dà per scontato una unità e non mutabilità di colui che sta guardando. Io credo che l'attentato più grosso alla pittura di Mondrian nel Novecento sia stato dato da questo tipo di ambienti che implicano un trascorrere, un mutare di prospettive, un mutare di condizioni percettive. La mostra nasce da questo, nasce da un interrogativo e da una volontà di misurare attraverso i decenni questo tipo di interrogativo. Appunto per questo vorrei che la prima a raccontarci la sua esperienza curatoriale riguardo a questa mostra fosse proprio Marina Pugliese. Grazie Flavio. Forse è importante dire che quando presentai la proposta di dottorato inizialmente il tema che mi ero posta era la questione della riproducibilità e di come negli anni erano stati riprodotti alcuni degli ambienti di Fontana e della fedeltà rispetto all'originale. Quindi nella mia prima concezione si trattava di un dottorato più relativo forse alla storia della conservazione che non alla storia dell'arte. E Flavio Fergonzi che ringrazio e che è stato un mentore centrale all'interno di questo progetto mi ha in qualche modo forzato a prendere il toro per le corna e ad affrontare il problema da una prospettiva differente, molto più complessa appunto relativa alla questione della relazione tra fruitore e spazio del rapporto tra l'opera di Fontana e quanto sarebbe successo in contemporanea in America in rapporto tanto da portare Fontana a rivendicare la sua primazia rispetto alla ricerca ambientale. Quindi il dottorato è cambiato in corso d'opera perché all'inizio la prima ricognizione dei materiali fu proprio relativa alle ricostruzioni e mi piace dire che con Barbara Feriani e con la fondazione in qualche modo si è fatto una sorta di secondo dottorato perché dopo il primo che è stato quello relativo appunto alle fonti alla ricostruzione diciamo di questa storia della storia dell'avventura ambientale di Fontana quando poi grazie a Vicente Todolia e a Dangar Bicocca che hanno appoggiato immediatamente il progetto di questa mostra che come Fergonzi ha sottolineato è anche una mostra coraggiosa perché si trattava di decidere di investire su qualcosa che in buona parte non era stato fatto in precedenza solo 4 degli ambienti presenti in mostra erano già stati riprodotti gli altri 5 non erano mai stati visti e dunque alla prima ricerca è seguita una seconda ricerca di cui parlerà poi più avanti Barbara che in qualche modo è il primo dottorato che avrei voluto fare io nelle intenzioni io ho portato una serie di immagini che possiamo forse attivare sì bene intanto partirei con il fatto che Fontana stesso nelle in una delle lettere a Crispolti sottolinea come ci sia una differenza tra ambienti e strutture ambientali Flavio giustamente ha sottolineato il debito con il futurismo che è stato molto forte e che è emerso anche proprio nell'analisi dei documenti al punto che Fontana attribuisce ad una delle fotografie dell'ambiente nero un titolo che ricorda proprio le forme uniche di Boccioni quindi la matrice è assolutamente futurista nell'analisi del concetto di ambiente viene in mente la comprenetrazione la relazione tra il soggetto e lo spazio circostante in questa lettera a Crispolti Fontana sottolinea la differenza tra ambienti e strutture ambientali in quanto l'ambiente è un'opera autonoma mentre la struttura ambientale è un'opera in dialogo con lo spazio in questa mostra il pubblico è seduto appunto sotto la struttura del 51 abbiamo voluto sottolineare la differenza proprio identitaria delle due tipologie di opera allestendo la struttura al neo del 51 e l'ambiente che Fontana fece per Italia 61 ad inizio e fine del percorso in maniera da poter invece rispettare un percorso cronologico all'interno un altro dato importante da sottolineare rispetto alla struttura al neo del 51 è che mentre l'ambiente nero in qualche modo ebbe un grosso impatto sulla scena artistica milanese ma non una eco sulla stampa assolutamente non una eco di tipo internazionale la struttura al neo del 51 essendo allestita ma anche quella del 61 cioè le due strutture al neo i due non ambienti per così dire ebbero invece un eco internazionale vennero riprodotti sulle riviste a livello internazionale molto di più che non gli ambienti stessi quindi in qualche modo c'è anche quasi un paradosso dal punto di vista della pubblicistica infatti qua è riportato un'immagine di architettura che è una delle svariate testate di arte architettura e design che riportarono l'opera di Fontana lo stesso di Casi invece per Italia 61 che per esempio venne pubblicato su Art in America nel 67 con un articolo di Nampine la moglie di Ottopine per l'appunto su un articolo sul rapporto appunto tra arte e luce arrivando invece al nostro al nostro ambiente credo che la cosa interessante qui sia il fatto che per la prima volta da quando è stato realizzato è stato riprodotto con la è stato riprodotto all'interno di uno spazio che cerca di ricondurre alle dimensioni alle forme originali della galleria del Navidio che è molto molto diverso da come è stato visto in questi anni l'ambiente nero è stato riprodotto più volte la prima nel 72 per la retrospettiva di Fontana a Palazzo Reale ma mai riproducendo il soffitto a volta la partitura con i due colori della boiserie che c'era la galleria del Navidio e devo dire che per chi immagino che qualcuno di voi sia capitato di vederlo allestito in precedenza generalmente in una scatola nera in un black cube per esempio così allestito al museo del Navidio di Parigi è molto molto diverso c'è davvero un effetto lo spazio del Navidio diviso così con i due colori davvero riconduce in qualche modo ad un'estetica tra gli anni 40 e gli anni 50 mentre invece il cubo nero è qualcosa di molto più moderno visivamente è una cosa anni 70 quindi abbiamo cercato con Barbara e con la fondazione di laddove e come è stato possibile di ripensarli rispettando il più possibile le condizioni originarie Flavio parlava della difficoltà di riprodurre qualcosa che appunto non era stato pensato per essere riproducibile di cui spesso si erano perse le tracce per ognuno di questi ambienti è stata fatta un'enorme ricerca che ha permesso di scoprire anche tanti dati che non sempre sono stati ripresentati qui all'interno della mostra ad esempio per l'ambiente del 49 abbiamo scoperto che uno degli elementi in carta pesta era documentato nelle fotografie era appeso lateralmente però abbiamo ritenuto che essendo questa ricostruzione storica perché del 76 abbiamo ritenuto di lasciarla così ovvero di intervenire sul contenitore ma non sulla forma dell'oggetto dell'oggetto stesso che vedo meglio si vai grazie si giusto e poi ovviamente abbiamo dovuto porci il punto di da dove viene un'opera così cioè come è possibile che qualcuno nel 49 cioè in pieno dibattito tra strazione e figurazione eccetera presenti un qualcosa che come lui stesso definisce non è pittura non è scultura è un oggetto con il quale si entra in relazione il visitatore è una illuminazione sì in qualche modo è un'apparizione un'illuminazione sì aspetta io ti ho rubato il però la cosa interessante è che la parte sostantivale del sintagma il sintagma è illuminazione a luce nera di arte trattino luce la parte sostantivale è illuminazione perché? perché c'è questo effetto di meraviglia e quindi studiando studiando le fonti ovviamente come tutti sapete Fontana parla di spazio come stesso diceva Flavio il riferimento allo spazio è sia il riferimento fisico allo spazio non è un caso che Flavio abbia parlato di Gesang-Kunst-Wert cioè del fatto di essere all'interno di un'opera d'arte totale in cui si è immersi ma lo spazio è anche lo spazio celeste e quindi l'avventura aereo-spaziale dell'epoca e quindi ci siamo chiesti ma cosa guardava Fontana cosa leggeva mi ricordo una delle prime ricerche che ho fatto in fondazione è stata cosa resta della biblioteca personale di Lucio Fontana cioè andiamo a vedere cosa leggeva lui e non molto perché non è rimasto non è rimasto un granché però quello che molto probabilmente ha visto questo è l'invito alla mostra che ha una grafica tipicamente futurista dove lui prende dei brani del manifiesto blanco molto probabilmente ha visto i primi i primi razzi che riprendevano la terra dall'alto perché Von Braun realizza questi questi razzi ai quali si è lo scienziato nazista ai quali si attaccavano prima le macchine fotografiche poi le cineprese e le immagini della terra vista dall'alto sono state pubblicate su live ma andavano anche nei cinegiornali dell'epoca e dunque parlo degli anni della guerra 45 appena finita la guerra 46 quindi Fontana fa tempo a vedere queste cose probabilmente addirittura in Argentina se non a Milano e sono immagini che sono appunto molto molto diffuse e nei manifesti ne parla chiaramente c'è proprio la citazione chiara dice ci siamo guardati dall'alto fotografando la terra dai razzi in volo dunque questa idea dello spazio è proprio un riferimento concreto era l'indagine l'inizio dell'avventura aerospaziale il mondo dell'arte capisce e non capisce capiscono forse di più gli artisti però sulle riviste d'arte non praticamente non è recensito mentre Gio Ponti intuisce immediatamente e il motivo è anche facilmente comprensibile proprio perché appunto essendo un'uscita dalla dimensione oggettuale dell'opera e un'entrata con una relazione fisica dello spazio che contiene questa apparizione è chiaro che il mondo dell'architettura e del design sia per sua stessa natura quello più aperto ad accogliere una novità di questo tipo quindi l'opera viene recensita subito in un trafiletto e poi qualche mese dopo viene dedicata alla copertina che attenzione non è una fotografia a colori perché non esiste una fotografia a colori esiste una foto in bianco e nero dipinta a china da Fontana in questo caso non è la stessa foto dipinta a china in questo caso i colori sono dati da un procedimento di stampa della copertina della rivista Fontana immediatamente capisce l'importanza di questa scoperta cioè si rende proprio conto di aver inventato un nuovo medium sostanzialmente e quindi vuole ripresentare l'avventura ripresentare l'opera la ripropone due volte la Biennale di Venezia non riesce una volta per il ritardo l'altra volta perché comunque funzionava per le sculture funzionava per altri tipi di opera e poi vorrebbe presentarla anche a New York negli archivi del Ghetti abbiamo trovato questa lettera in cui propone ad Enrico Donati che è un pittore surrealista italiano naturalizzato americano di rifare l'ambiente spaziale negli Stati Uniti e non riesce e da lì il vuoto per anni fino fino al 60 dove propone quest'altra opera incredibile a Venezia e anche qui non è un caso a Venezia Palazzo Grassi che era di di Marinotti che era l'industriale della snia viscosa che però utilizzava come menti diciamo della programmazione espositiva Michel Tapie e Willem Sandberg e Sandberg era il direttore dello Stadelic Museum di Amsterdam che è stato tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 indiscutibilmente il museo più innovativo al mondo per l'arte contemporanea e infatti Sandberg questa è una mostra dove ci sono opere ambientali di diversi artisti per esempio c'è la caverna dell'antimateria di Pino Gallizio c'è tutto un ambiente anche di Teshigara c'è un ambiente di Enzo Mari e Fontana realizza quest'opera con i tessuti perché i tessuti erano prodotti dalla snia viscosa quindi in qualche modo gli viene proposto di fare una cosa utilizzando diciamo i prodotti dell'industria del mecenate e fa quest'opera molto molto strana un dato interessante qui è che Colombo che vede la mostra nota che l'oggetto al centro è instabile come vedete c'è questo poligono che non poggia completamente a terra e questo tema appunto dell'instabilità come ha detto anche Flavio che all'interno di un discorso di percezione di corpo è molto importante sarà poi ripreso in opere successive dal punto di vista della mostra qui ad esempio qui abbiamo rinunciato perché abbiamo fatto delle grosse ricerche ci siamo confrontati con la fondazione ma laddove i dati non erano sufficienti questo poi appunto sarà affrontato da Barbara Feriani abbiamo preferito lasciar perdere piuttosto che fare qualcosa di approssimativo abbiamo lasciato perdere magari in futuro si troveranno più materiali e l'opera si potrà si potrà fare adesso io non so non vorrei Flavio per rifare tutto credo sia molto utile invece per il pubblico rivederlo da quel punto di vista lì è un peccato che finora non è uscito il catalogo uscirà a breve insomma il catalogo da racconto in modo molto puntuale di questo tipo di ricerche e anche dell'atteggiamento come dire molto positivo molto fattuale che è stato assunto di fronte ad ogni singolo problema si dichiara lo stato degli studi si dichiara lo stato dei materiali si dice come si è proceduto si prova ad argomentare in termini di proprio di argomentazione storico-artistica quali sono stati i precedenti possibili i riferimenti possibili l'impatto possibile che questo ambiente ha avuto nel clima artistico internazionale cioè un catalogo mi sembra io ho letto i testi di Marina i testi di Barbara un catalogo molto tradizionale di storia dell'arte in cui come dire per la prima volta si fa uscire Fontana da una dinamica di militanza a tutti i costi e lo si riporta con molta come dire tranquillità positività ed anche scienza al centro di una dimensione storica credo che sia utile questo andare avanti magari vado un pochino più veloce perché se no non lascio spazio agli altri e niente quindi fino dal 49 al 60 non fa ambienti e nel frattempo però Kaprov Dain Oldenburg eccetera hanno iniziato a farli gli ambienti e questa cosa ha una spinta forte come è forte la cultura americana dopo la seconda guerra mondiale e dunque Kaprov che già nel 58 ha fatto awards fa insieme agli altri la mostra Environment Situation Spaces da Martha Jackson e Kaprov scrive il libro che è una serie di articoli pubblicati in precedenza diventa libro nel 66 ma gli articoli sono su svariate riviste in precedenza e Fontana quindi immediatamente in ritardo cioè è stato in anticipo per 11 anni poi di colpo è già in ritardo questa è la mostra Environment Situation Spaces dove Kaprov fa The Yard Fontana pochi mesi dopo ha una personale nella stessa galleria e però per una serie di motivazioni credo meramente commerciali perché la galleria doveva tirare su soldi invece di fare di esporre ambienti espone le venezie e le nature e la mostra viene assolutamente come dire criticata malissimo e da lì nasce questo approccio negativo che ha la critica anglosassone nei confronti di Fontana da cui fatichiamo ancora a liberarci nel 64 per la triennale la prima triennale a tema dedicata al tempo libero curata da Eco e Gregotti a Fontana vengono commissionati due ambienti due corridoi dedicati alle utopie del tempo libero il tema del corridoio è un tema già visto nell'ambito delle nuove sperimentazioni tra storia dell'arte e architettura questo è uno dei corridoi nel 56 per la mostra The Sistumoro ma anche nel 62 per esempio di Labie allo Stedeli che aveva corridoi e nel 63 il Grave fece una mostra dedicata ai labirinti a Parigi e Fontana progetta due corridoi coinvolge Nanda Vigo il primo è più proprio frutto dell'esperimentazione di Fontana e potete vedere come in qualche modo si ricolleghi anche all'ambiente nero all'immersività del nero mentre il secondo che abbiamo riprodotto qui in mostra per la prima volta risente maggiormente del ruolo di Nanda Vigo sia per la scelta dei materiali che per l'immersione del colore relativamente perché aveva fatto anche esaltazione di una forma che era tutto rosso con luci rosse quindi diciamo più per la scelta dei materiali forse e forse per l'ondulazione del pavimento che in qualche modo riconduce alle ricerche ottico-cinetiche di quegli anni due anni dopo a Minneapolis fa un ambiente e qua siamo stati fortunatissimi perché il Walker Art ha degli archivi meravigliosi hanno tenuto tutto adesso poi Barbara vi parlerà dei materiali con cui si ricostruisce un'opera c'erano le bolle di consenso c'era tutto e quindi siamo stati molto molto fortunati perché siamo riusciti per la prima volta a ricostruire questo ambiente che appunto prevede a due corridoi di ingresso questo è anche molto simbolico c'è un accesso c'è un'uscita che obbliga a piegarsi quindi hanno una sorta anche di preparazione dal punto di vista fisico c'è proprio un concetto di soglia e poi si entra e ci si può alzare in questo spazio dove il pavimento è morbido i piedi affondano c'è questa luce straniante che proviene da dietro ai fori che in qualche modo richiama il corridoio nero del 64 dove di nuovo sono fuori con una luce al neon che viene dietro un altro ambiente che siamo stati quasi lì per poter rifare è stata la stanza del 66 la Biennale di Venezia questa non abbiamo soprattutto per motivi conservativi perché siccome dentro all'interno c'erano cinque concetti spaziali svariati di proprietà di musei che non ci permettevano di togliere le opere dalle cornici e siccome le opere sono inserite in queste edicole disegnate da scarpa sul progetto di Fontana insomma abbiamo rinunciato perché sarebbe stata si negava la purezza del progetto però veramente ho torto collo perché sarebbe stato un colpo meraviglioso ed è stata una rinuncia all'ultimo avevamo anche i prestiti ma non ci facevano ricordo una drammatica telefonata dalla California all'Italia marina in cui abbiamo discusso di questa opportunità assolutamente perché poi ci siamo anche chiesti pure insieme alla fondazione ci siamo chiesti cosa facciamo allora non li mettiamo per dire se ce ne lasciano togliere dalla cornice due ne mettiamo due senza cornice e tre li mettiamo finti oppure non mettiamo niente oppure mettiamo un disegno insomma alla fine alla fine avete presente quando una cosa non funziona niente chi lo sa magari anche lì in futuro in futuro chi lo sa e poi nel 67 per la prima volta invece si riconosce a Fontana in una mostra importante perché anche a livello della storia degli ambienti che io adesso sto studiando in California quella di Foligno è forse la prima mostra davvero incentrata solo sulla questione ambientale in maniera dichiarata eccetera la mostra curata da Marotta Fontana viene invitato come nume tutelare e lì su flash art vedete c'è un'immagine di Fontana con Castellani all'interno dell'ambiente e Fontana che inizialmente pensa di rifare l'ambiente nero no scusate questo non c'entra pensa di rifare l'ambiente nero invece fa un'opera molto più come dire essenziale e lineare pare ci fosse un pavimento non ondulato come si dice obliquo che però appunto anche lì per mancanza di fonti se non l'indicazione orale di Marotta che intervistai prima che mancasse e quindi per mancanza di dati precisi rispetto al livello di inclinazione non abbiamo ritenuto di poter riprodurre e poi la mostra di Amsterdam questa è una cosa molto molto importante perché ad Amsterdam Fontana era la stessa mostra che era partita da Minneapolis e che da lì andò in Texas e poi in Argentina poi arrivò l'anno dopo in Europa era leggermente diversa di tappa in tappa ma oramai Fontana si rende conto che l'ambiente è diventato un come dire è diventato oggetto di culto di norma diffuso nel mondo dell'arte contemporanea e quindi vuole rivendicare il suo ruolo e la sua primazia e quindi dalle rettere risulta che ne volesse fare addirittura cinque se non sbaglio quindi che proprio che buona parte della sua mostra dovesse essere impostata sulla presenza di ambienti in realtà alla fine riesce a farne solo tre qua sono le immagini di lui con Jeff Verheyen che era un artista fiammingo suo caro amico che lo aiuta nella riproduzione questi sono gli oggetti le parti della ricostruzione ideale dell'ambiente nero qui per la prima volta li abbiamo riprodotti tutti e tre questo è l'ambiente nero vedete che nel frattempo il linguaggio cambia Fontana si aggiorna sia sull'arte contemporanea sia su se stesso perché qua cita i teatrini quindi la forma non è più tridimensionale non è più policroma è lineare sia si aggiorna sul linguaggio della pop lui stesso dice dichiaratamente che dopo la Biennale del 64 gli era piaciuto molto Lichtenstein era rimasto molto colpito dalle cose dagli oggetti dalle forme pop americane nel frattempo però emerge un signore tale Dan Flavin il quale lavora pesantemente con il neon e che appunto espone questi neon rossi nella nella mostra sul minimalismo primary structures al Jewish Museum ma che anche poco prima della mostra di Fontana ad Amsterdam e ad Eindhoven la mostra Kunstlist Kunst ad Eindhoven fa tutta una stanza verde ambientale e quindi Fontana vuole riprendere l'idea dell'uso del neon che aveva su quale aveva basato l'opera del 51 in triennale trasformandolo però in un'opera in un'opera ambientale molto semplificata molto pulita molto lineare però con questo rosa Flavio che tu stesso dicevi riporta insomma è un colore che a un certo punto è diventato di moda lo usa Pasquale lo usa Cunellis nei pali rosa cioè è un rosa assente alla tradizione occidentale è un rosa impregnato industriale perturbante per i suoi ecchi non corporali che ha per uno abituato a ragionare per cortocircuiti surrealisti ed è uno dei colori diciamo provocatori e diversi in quegli anni cioè proprio volersi misurare con un colore inesistente nella tradizione del colore occidentale uno dei grandi rischi e delle grandi scompesse insomma di quegli anni pantoni di un colore talmente inverosimile dal punto di vista della vita quotidiana dei percorsi della vita quotidiana che inevitabilmente schiacciano il significato delle forme come le forme vengono assorbite totalmente ma anche proprio dalla qualità tattile di questo rosa siamo di fronte ad un feltro che non capiamo bene si assorbe la luce o se la restituisci in un certo modo come noi ci comportiamo quando lo accarezziamo come ci muoviamo di fronte ad una linea che invece sembra essere voglio dire così dominante c'è proprio tutta una serie di boule vermont di capovolgimenti di quelli che sono nei normali codici di lettura dell'opera e credo che appunto un colore così nuovo e così poco civile insomma dal punto di vista se per civiltà si intende quella dei musei potesse essere un innesco molto forte di provocazione visiva l'altro dato bello che sottolineavi tu prima vedendo la mostra sono anche i rumori la parte meccanica il fatto che i neon vibrano il fatto che tocca che c'è e sapete che per i neon anche questo affare di Barbara abbiamo utilizzato abbiamo collaborato con la Claude che era la ditta che faceva i neon all'epoca e sono ancora realizzati con procedimento artigianale quindi e poi c'è questo che è un'opera è stata una grossa soddisfazione per noi fare questo anche un incubo perché è un'opera complicata che non era mai stata fatta qua abbiamo l'abbiamo riprodotta con una fotografia che ripete e però non ce l'ho l'unica foto che abbiamo che è quella dello Stedelijk dove si vedono tre corridoi e quindi in letteratura si diceva che fossero tre in realtà abbiamo trovato una pianta da Eindhoven che mostrava che invece erano sei quantomeno nella versione di Eindhoven e quindi abbiamo deciso di rifarlo a sei che è un'opera di una modernità incredibile quell'anno lì il 67 Bruce Nauman è in Europa non si sa se si è andato a visitare lo Stedelijk è possibile però nel 70 esce quest'opera incredibile che è il corridoio verde di Neone è un ambiente l'unico ambiente che si è salvato che nelle collezioni del museo originale che si è salvato che nelle collezioni di Lione è questo che Fontana realizza nel 67 alla Galleria del Deposito qui abbiamo trovato questa serie di provini anche la pianta della galleria abbiamo deciso in questo caso e in più di un caso abbiamo deciso di soprassedere anche per Venezia 68 perché laddove erano troppo simili ad ambienti già presenti in mostra non ci è sembrato necessario insistere questo è il bollettino della Galleria del Deposito con Fontana che lo realizza e lo realizza esattamente come un happening quindi aggiornato sulle novità americane e dal punto di vista degli ambienti la mostra chiude con l'ambiente di documento Fontana non va di persona oramai è vecchio e malato lascia vecchio poverino non muore tanto vecchio insomma sicuramente malato e muore nel settembre del 68 quindi muore a mostra in corso e anche questo è un ambiente che è stato riprodotto in precedenza ma riprodotto con delle modifiche quindi che qui si vede finalmente in maniera differente qua abbiamo riunito tutti gli ambienti che non erano mai stati riprodotti in precedenza per darvi l'idea proprio della quantità Marina c'è un participio pericolosissimo che hai usato molte volte in questa che è fatto abbiamo fatto abbiamo rifatto qualche volta ma soprattutto fatto è l'artista che fa un'opera tocca a colei che si è occupata direttamente a Barbara Feriani a spiegarci che problemi ci sono stati così vedo anche io come funziona questo allora cercherò di spiegarvi verità noi avevamo cominciato a lavorare con Marina già da molti anni su questo tema delle ricostruzioni della documentazione è un lavoro che è data almeno 15 anni quando Marina ha terminato il suo dottorato è arrivato un giorno dicendomi ma che cosa ne dici con il materiale che abbiamo che io ho trovato partendo dalla documentazione ricchissima che c'era in fondazione da tutto il suo studio cosa possiamo fare è possibile ricostruire questi questi ambienti chiaramente lo sguardo dello storico dell'arte pur entrando nel nel dettaglio non entra forse nella nella materia cioè non analizza la materia quindi abbiamo cominciato a vedere ci siamo chieste cioè guardiamo nuovamente tutto questo materiale ritorniamo negli archivi ma con uno sguardo diverso con una prospettiva diversa cioè cercando degli indizi diversi e vediamo se quello che noi riusciamo a raccogliere è sufficiente per ricostruire questi ambienti diciamo che siamo andati adesso abbiamo cominciato allora prima cosa uno solo era esistente quello di cui vi ha parlato prima Marina quindi che ora è a Lione che cosa rimaneva degli ambienti i cinque concetti spaziali dell'ambiente realizzato nel 66 per la Biennale di Venezia in diverse collezioni considerati come quadri considerati come quadri quindi che hanno assunto una loro vita del tutto autonoma il taglio che era stato realizzato per l'ambiente di Castel che fu donato nel 74 dalla fondazione Fontana da Tresita Fontana a Caracas e nient'altro a questo punto abbiamo cominciato a guardare tutta la corrispondenza di Fontana corrispondenza in cui lui narra il suo processo ideativo i cambiamenti in corso d'opera una corrispondenza che però certe volte ci dà anche degli indizi precisi sulle dimensioni sui materiali da usare abbiamo guardato tutte le bolle di consegna tutte le fatture tutte le lettere con le assicurazioni e voi vedete che spesso in queste lettere compaiono dati precisi come misure non mai in maniera sistematica un dato di qua un dato di là spesso dati anche non concordanti discordanti non so prima viene fatto un ordine di un materiale verde che poi noi troviamo che invece è rosso poi abbiamo guardato le piante perché le misure spesso non erano precise erano state tramandate ma nel tempo senza avere poi dei riscontri certe volte abbiamo trovato delle piante firmate come quella di Eindhoven per la mostra di Eindhoven altre volte vedete sulla vostra destra la pianta invece di Venezia oppure sotto di Kassel quando non siamo riusciti a trovare delle misure precise ci siamo avvarsi delle ricostruzioni digitali tridimensionali partendo dalle fotografie o di riscontri sulle dimensioni attuali degli spazi come per la galleria del Naviglio dove Marina era riuscita a avere una pianta da Cardazzo ma non eravamo certi quindi siamo andati abbiamo trovato delle foto storiche e poi siamo andati sul luogo per riprendere le misure le fotografie poi tantissime fotografie fotografie che abbiamo cercato e che ci hanno permesso in molti casi di capire degli elementi sulla tecnica costitutiva non so l'elemento per ambiente nero di Amsterdam voi vedete che in questo caso si leggono le giunzioni le misure dei vari pezzi che da una parte sono incollate dall'altra sono per sovrapposizione o la larghezza dei tessuto anche utilizzato basso sulla sinistra con le ricostruzioni tridimensionali siamo riusciti anche a collocare tipo per questo ambiente il posizionamento esatto delle file di fori laddove chiaramente erano visibili nelle fotografie poi chiaramente la grande ricerca è stata quella sui materiali perché come dice come tu dicevi prima un materiale i materiali sono importantissimi e ci sono fondanti nella restituzione di un ambiente la riflessione di un materiale o l'assorbimento della luce la incidenza di una luce ambientale rispetto a una luce che viene esatta come medium cioè anche una piccola variazione può cambiare completamente l'insieme e questo è stato molto interessante per l'ambiente di Amsterdam avevamo delle foto a colori rosse in cui si vedeva un ambiente rosso e un neon bianco dopodiché negli archivi di Amsterdam abbiamo invece trovato una foto in cui il rivestimento sembrava rosa e il neon era sempre bianco in verità allora com'era rosso o rosa grazie alla fondazione Fontana abbiamo trovato un frammento del tessuto originale che era stato donato da Fontana alla fine della mostra e che ora è in collezione privata ad Amsterdam e grazie a questo abbiamo potuto ricreare lo stesso tessuto questo tessuto un po' felpato morbido che assorbe la luce e l'altro problema era il neon era rosso o era colorato nelle lettere Fontana parla di un neon colorato rosso perché noi lo vediamo bianco perché se voi fate una foto all'interno dell'ambiente che ha ora un neon rosso vi risulta bianco quindi è un'istituzione fotografica e quindi anche questo ci ha permesso di ricreare un ambiente con il rosa esatto con il tessuto esatto molto simile a quello originale e con una neon rosa una grande ricerca è stata fatta anche sui colori fluorescenti che lui usa moltissimo con la luce di Wood colori fluorescenti entrati in commercio negli anni 30 in America per le insegne stradali poi utilizzate nel teatro nei costumi di scena e che lui usa già nel 48 per il cinema arlecchino abbiamo trovato in una sua lettera anche una indicazione della ditta che produceva questi colori della floresco qua c'è un dei prian che io e lei abbiamo cercato siamo riusciti a trovare in maniera alcambolesca e anche della data del brevetto di quando viene brevettato in Europa tutto ciò è il confondo fra tutti questi dati ha portato chiaramente alla realizzazione di una sorta di libretto di istruzioni diciamo di fascicoli descrittivi che riportano non solo la materialità dell'opera i materiali le misure i rapporti interni ma anche il contesto in cui erano stati creati e tutto ciò è arrivato è poi giunto anche alla realizzazione di restituzioni digitali tridimensionali realizzati dalla CO3 che sono gli architetti che hanno lavorato con Angar e con noi per creare questa mostra è stato anche molto interessante lavorare con Nanda Vigo Nanda Vigo ancora vivente quindi che ci ha aiutato per i due condotti della triennale nel primo quello rosso ci ha dato i disegni originali con lei sono stati scelti tutti i materiali più vicini possibili a quello regionale ci ha dato i vetri industriali quadrionda che non sono più in commercio ma l'altra grande scelta è stata per il condotto nero il condotto nero era stato già ricostruito due volte nel 99 alla triennale di Milano e nel 2008 a Palazzo Ducale quando è stato ricostruito pur avendo delle misure abbastanza simili a quello originale l'andamento delle file di fori era stato realizzato da Nanda Vigo non attenendosi a quello originale in questo caso proprio per l'approccio filologico che abbiamo avuto nella ricostruzione di tutti questi ambienti si è deciso abbiamo cercato ci siamo chiesti è possibile rifare l'andamento originale e in effetti avevamo una fotografia che ci ha permesso con una restituzione fotogrammetica di ricreare precisamente l'andamento originale per più della metà del condotto cioè quindi dalla porta fino al margine fino al margine destro per la parte mancante che non era ripresa invece dalle fotografie abbiamo chiesto a Nanda Vigo di terminarla e Nanda Vigo ci sono varie foto qua in hangar mentre lei realizza questa parte per gli ora voi sapete che quattro ambienti erano stati già realizzati già ricostruiti varie volte uno di questi è l'ambiente luce nero scontando troppo lunga devo tagliare posso ecco l'ambiente luce nero già ricostruito due volte nei 72 per la prima volta a Palazzo Reale e poi distrutto e una seconda volta nei 76 a Bologna dei 76 rimangono le forme le nove forme in cartapesta che voi vedete anche esposte ora che sono state poi riproposte nel tempo in moltissime nuove ricostruzioni questa volta abbiamo deciso avendo trovato le misure originali come ha detto Marina de riproporlo come era all'origine la stessa cosa è stata fatta non più per un ambiente ma per un'opera ambientale questo neono che è stato presentato molte volte e per la prima volta siamo riusciti a ripresentarlo con le misure originali 12 metri per 10 anziché gli 8 per 10 che sono state sempre rifatte nelle successive ricostruzioni e con il cielino blu cielino blu che era stato già come dire di cui si era venuti a conoscenza tramite questo De Priande la Vipla del 51 dove si vede l'unica fotografia a colori e poi tramite i disegni di Luciano Baldassari del 51 con le prove colori per cui grazie alle prove colori siamo potuti risalire al colore originario e riproporlo in maniera direi quasi esatta qua ci sono due foto belle in cui si vede durante l'allestimento del neon con il modello in ferro che voi vedete che aveva fatto Fontana e qua con Fontana stesso l'ultima cosa che vi dico come esempio di cui ha parlato anche prima Marina è l'anno di un ambiente fatto nel 68 a Cassel lui non era presente in carica Aldo Jacoper di creare di fare un progetto cioè di realizzare il progetto siamo riusciti a trovare il progetto originale grazie all'architetto Jacober e è stato molto utile perché ha evidenziato che originariamente l'ambiente aveva tre ingressi uno centrale che portava direttamente al taglio e due laterali con il tempo l'ingresso centrale era stato chiuso voi vedete la foto in alto sulla destra dove si vedono le due porte laterali ma al centro non c'è un accesso al taglio era stato chiuso evidentemente per rinforzare l'effetto del labirinto interno anche in questo caso si è deciso di ricrearlo con l'apertura centrale l'unica differenza con le misure originali l'unica differenza che a Cassel noi sappiamo che era stato collocato in una stanza ampia e non aveva soffitto e l'illuminazione da quello che dice Jacober arrivava direttamente dal soffitto e da della stanza che era più alta e da faretti in questo caso visto l'ambiente si è creato un soffitto retro illuminato che riproduce un po' quella che era l'illuminazione originaria ecco questo è un po' il processo che abbiamo utilizzato e si è vista la complessità insomma di questa proprio di questa operazione anche dal punto di vista del metodo futuro e anche dal punto di vista proprio della discussione statutaria di queste opere nel lato in cui si usano delle fonti d'epoca e si riutilizzano dei materiali o addirittura dei testimoni d'epoca nell'esecuzione si va al cuore di quella che è l'identità stessa dell'opera il senso che ha il riprodurla in un senso come dire più storico più celebrativo più emozionale o più in qualche modo militante a seconda di dove si pone l'asticella di dove si pone l'obiettivo cambia anche proprio credo la modalità di esecuzione del restauro o della riproposizione o della ricreazione o della creazione to court come in alcuni casi io ero curiosissimo di vedere se l'opera del 1960 quella di Venezia sareste riusciti a se l'ambiente insomma quella dell'esaltazione di una forma perché quando mi aveva fatto vedere le fotografie in origine marina ho subito pensato ovviamente al first papers of surrealism al al Duchamp grande allestitore di ambienti insomma Parigi e poi New York effettivamente diventa impossibile quando il numero dell'incognita è troppo alto l'equazione non si riesce a risolverlo la pianta Palazzo Grassi quindi sapevamo esattamente le misure però questo è un ambiente benché ci sia un filmato che è ripreso solo da due punti per poter ricreare la tridimensionalità abbiamo bisogno di tre punti di vista diversi se no non riusciamo ma davvero proprio quel senso di profondità come reagisce la fondazione fondamentale ad un'operazione del genere cioè come ristabilisce il posto di Lucio Fontana nella avanguardia del novecento credo che sia la domanda con cui si può chiudere questa chiacchierata di questa sera diciamo che noi innanzitutto prendiamo atto del grande interesse che questa mostra ha suscitato del grande successo che è stata questa mostra mostra che la fondazione Fontana ovviamente per la fondazione Fontana ha rivestito una grande importanza la prima volta che c'è un corpus di opere così consistente che come ha detto Marina in parte non erano mai state riprodotte in parte invece avevano già avuto allestimenti precedenti però un numero così congruo di nove ambienti spaziali e i due interventi ambientali è la prima volta che riusciamo a vederlo opere a vocazione ambientale che praticamente ci rendono testimoni di quello che è stato il cammino di Fontana come maestro e progrome dello spazialismo lui si parte dalle sue collaborazioni negli anni trenta con gli architetti in ambito milanese ricerca che lui ha continuato anche nel periodo argentino durante la seconda guerra mondiale quando lui rientrò in Argentina poi esemplificato nel manifesto blanco del 46 e qui a Milano c'è stata la mostra rivelatrice nel 49 alla galleria del Naviglio che diciamo ha è stata una cosa di eclatante di estrema importanza che ha praticamente aperto nuove strade l'ha indicato come un artista che forse tra i primi ha cercato di superare i generi allora correnti allora esistenti è diventato un riferimento anche per le generazioni più giovani di artisti o anche nei tempi attuali nei tempi recenti noi come fondazione abbiamo lavorato sin da quando la fondazione è stata diciamo inaugurata da Teresita due anni dopo la morte di Lucio nel 1970 come archivio ed è diventata fondazione nell'82 abbiamo sempre cercato di dare rilevanza a questo aspetto dell'opera di Fontana già nel primo catalogo ragionato del 74 curato da Crispolti ci sono tracce importanti di questo abbiamo concesso da subito le autorizzazioni necessarie per il rifacimento degli interventi ambientali degli ambienti veri e propri per tutte la grande mostra di Palazzo Reale di cui parlava Marina prima le mostre del centenario che si sono svolte nel 99 a Milano di conseguenza questa valorizzazione degli ambienti degli interventi ambientali degli interventi architettonici che Fontana aveva iniziato diciamo possiamo farla risalire agli anni 30 le prime collaborazioni con gli architetti in ambito milanese e poi è quella che praticamente ci permette di capire come Fontana si è arrivata si è arrivato all'ambiente all'ambiente della galleria del Naviglio nel 49 è una delle una delle pietre migliari dell'arte del novecento io non sono un critico non è il mio ruolo ma ovviamente ne siamo tutti consapevoli con maniera consapevole Lucio come è stato accennato che ne ha da un certo senso si è reso conto di aver creato qualcosa di cui lui stesso forse dai suoi scritti si capisce che ne aveva anche paura c'era un punto interrogativo un equivoco quasi era una situazione che lui stesso forse non non riusciva a comprendere fino in fondo non nel senso intellettuale del termine però era un po' un salto nel buio un salto nel vuoto di conseguenza queste questa questa mostra qui all'hangar è un pochettino il compendio di quello che può essere stata la sua la sua ricerca spaziale un aspetto sicuramente importante fondamentale della sua opera è importante innanzitutto anche perché si svolge a Milano che è la città oltretutto in cui città adottiva di Fontana ed è anche la sede della fondazione che opera in Corso Monforto nello stesso palazzo in cui Lucio ha avuto il suo studio dal 52 fino praticamente alla sua morte per cui c'è anche un legame affettivo e sentimentale oltre che un legame pratico e pragmatico questo è quanto io voglio essere breve per recuperare eventualmente il tempo in cui ci siamo un pochettino allungati prima una nota di apprezzamento nei confronti della fondazione che non solo ci ha permesso di ricostruire opere che non erano mai state ricostruite ma ha anche accettato il fatto che venissero riviste opere che invece erano state rifatte negli anni in altro modo e quindi in qualche modo ha permesso ad una apertura ad una rivisitazione dal punto di vista storico alla luce dei nuovi documenti e questa è una cosa importante non è una cosa banale scontata tutta la documentazione che voi avete reperito che siete riusciti a riportare alla luce c'è stata di grande aiuto perché ci ha permesso di nell'ambito di questa collaborazione che è stata lunga intensa a tratti anche un po' faticosa però di arrivare a un risultato che mi sembra sia stato di grande soddisfazione per tutti posso aggiungere una cosa io molto tecnico cioè sono più materiale però sono mesi di lavoro perché anche la fondazione giornate intere passate a cercare a controllare a rivedere qua c'è anche Stefano penso che invece è andato Stefano Setti in tutti gli archivi perché negli archivi non è che ci si va una volta ci si va varie 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 volte insomma è stato un lavoro veramente lungo direi che forse conviene alla padrona di casa salutarci tutti a salutare il pubblico io spero che due cose si siano viste al di là appunto della bellezza smagliante e perturbante di questi oggetti visti dal di fuori e visti penetrandoci che qualche volta filologia documentaria e filologia materiale si incontrano ancora con molta sposabilità ed è un aspetto che per chi come me fa lo storico dell'arte è un aspetto molto consolatorio il secondo aspetto è che esiste una linea altissima dell'arte italiana che si confronta e che compete e che molto spesso è stata determinante nelle scelte che poi sarebbero diventate quelle vincenti nella grande arte internazionale l'esempio di Lucio Fontana mi pare sia l'esempio davvero più eloquente in questi tempi lascio la parola è stato interessantissimo noi di solito proponiamo al nostro pubblico anche di fare delle domande se voi siete disponibili se qualcuno ha delle domande il nostro mediatore culturale sarà felice di portarvi il microfono scusa io nessuno ha parlato di Anger Bicocca però del lavoro che ha fatto Anger Bicocca del team di Anger Bicocca senza il quale non sarebbe stato possibile ma è tutto lì voglio dire scusate di parole perché abbiamo parlato di noi una cosa Flavio che tu hai apprezzato moltissimo sono i contenitori hai fatto un'osservazione grazie alla dimensione del contenitore grazie al fatto che questi ambienti sono stati in qualche modo diciamo tra virgolette chiusi dentro a scatole è possibile apprezzare veramente l'aspetto dimensionale e quando si entra si ha davvero una sorta di contrasto tra contenitore e contenuto ecco Todolì non solo Vicente Todolì il terzo curatore che stasera non è con noi non solo ha insistito sulla presenza del neon del 51 e del 61 insieme a Nini e Laurini io devo dire ero perplessa io avevo delle perplessità e ammetto che avevano assolutamente ragione ma Vicente ha anche ascoltando i suggerimenti di Nanda Vigo deciso per le scatole deciso che le scatole riproponessero strutturalmente vedete con queste nervature in qualche modo richiamassero l'interno dell'architettura e dunque il suo contributo devo dire dal punto di vista curatoriale è stata una mostra dove ciascuno di noi io per la parte di ricerca documentaria storico-artistica Barbara per la parte di ricerca documentaria legata ai materiali e Vicente per la parte di display di allestimento ognuno ha fatto il suo pezzo e questo è il risultato e Angar Bicocca è stato preziosissimo nell'appoggiare un progetto così che era veramente una sfida perché era una cosa su carta che non si era in questi termini mai vista con un team professionale che ci ha seguito e ancora ci sta seguendo il catalogo se ancora non è uscito perché è talmente complesso ma vedrete è bellissimo posso dirlo allora se non ci sono domande io ringrazio i nostri relatori ringrazio voi sotto questo stupendo neon ecco lavorare al public program di questa mostra anche per me è stato veramente speciale interessante bisognerebbe fare un public program di cinque anni probabilmente per riuscire a esplorare tutti gli stimoli ci sono stati già due incontri appunto uno sulla relazione fra Fontana e l'architettura con Paolo Campiglio un altro sulla relazione fra Fontana e i giovani e su come Fontana è stato importante per i giovani il prossimo appuntamento imprescindibile vedrà la presenza del professor Chris Polti che come tutti sappiamo è il più importante studioso di Fontana appunto molte delle fonti sono le sue lettere personali con Fontana nonché curatore del catalogo ragionato che ci raggiungerà qui il primo di febbraio e poi per concludere in bellezza pochi giorni prima la terribile data della chiusura perché noi devo dire stentiamo ancora a credere che questa mostra chiuderà avremo qui sotto e siete ovviamente tutti invitati e spero che anche voi abbiate voglia di esserci un concerto in collaborazione con Milano Musica un festival di musica contemporanea storico a Milano che metterà in scena alcune delle composizioni realizzate nello studio di fonologia della RAI uno studio aperto a Milano nel 1955 da Luciano Berio e Luigi Nono e Maderna in cui adesso non sappiamo ancora il programma definitivo ma insomma ci piaceva esplorare nella trinale del 64 correggetemi se sbaglio era diffusa la musica l'omaggio a Joyce di Luciano Berio e quindi cercheremo di esplorare quello che era l'immaginario musicale di Fontana e quello che era diciamo la come dire la vivacità culturale la propensione alla sperimentazione di Milano in quegli anni che era veramente una città al centro del mondo per concludere oltre a un sentitissimo applauso vi proponiamo la visione per chi non l'avesse ancora visto di un filmato del making of della mostra che molto velocemente in maniera più divertente e diciamo molto molto veloce restituirà un po' quelle che sono state le varie tappe della realizzazione proprio fisica degli ambienti vi ringrazio ancora e a presto grazie a presto a presto a presto